Nono, 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 nono. è così salta mamma devi lasciare il pezzo molto grande non le tue ditine fuori di pezzo così? così? si sempre di qua le dalle va buca sempre il cattino fuori cioè il cattino fuori la carne così tata non lo asciughe tutto è perfetto prendi così così si adesso aspetti tu con la Sofia non lo asciughe